Giussi, apriamo subito l'angolo dell'educazione finanziaria. Questa sera vi ho detto che sorvoliamo sulla MIFID 2, ne parleremo un'altra volta. Stasera parliamo di risparmio. Di risparmio. Il risparmio cos'è? È una parola che fa molto parte della nostra vita, che entra nella nostra cultura finanziaria, nella nostra crescita finanziaria, da quando siamo bambini e ricordiamo i vecchi librettini, a quando diventiamo più adulti e quindi gli obiettivi a livello temporale diventano i più diversi. Il risparmio non è nient'altro che la rinuncia al consumo di un reddito, di parte del nostro reddito che percepiamo, per accantonarlo per i nostri scopi futuri, per i nostri obiettivi futuri. Questi obiettivi possono essere diversi, diversi a seconda della nostra età, a seconda della nostra situazione familiare, a seconda del nostro ceto sociale e anche della nostra situazione lavorativa professionale, soprattutto a seconda della nostra situazione lavorativa professionale. Perché ci saranno momenti nella nostra vita in cui potremo avere maggiore disponibilità, altri invece in cui abbiamo minore disponibilità. In senso logico ovviamente le persone più giovani solitamente dispongono di meno reddito rispetto a persone più mature, ma ahimè abbiamo imparato che nella nostra situazione economica ci sono anche persone che raggiungono una certa età e pur essendo vicino all'età pensionabile hanno ancora problemi di reddito. E questo ci fa capire quanto sia importante la pianificazione durante tutta la nostra vita lavorativa, durante tutta la nostra crescita in termini di produzione del reddito e crescita in termini di pianificare quelli che sono i nostri obiettivi. Iniziamo sicuramente il nostro percorso con il nostro percorso professionale, con il nostro percorso lavorativo. Poi man mano che la nostra vita si svolge abbiamo l'obiettivo sicuramente di quello di avere una casa, piuttosto che quello di una macchina, piuttosto che altri obiettivi. Una casa magari la compriamo dal dottor Pastore. Esatto. Piuttosto che una vacanza, visto che abbiamo Mariuccia che ci entusiasma con le sue crociere. Questo implica che comunque noi riusciamo ad accantonare una parte del nostro reddito per destinarlo ai nostri obiettivi futuri. Ad ogni fase della nostra vita, ad ogni fase di accantonamento, in virtù del nostro obiettivo finale, ci sarà anche una propensione al rischio che sarà diversa. Da qui nasce il discorso Mifid. Quello di riuscire ad individuare in virtù dei nostri obiettivi temporali, in virtù dei nostri progetti, in virtù di quelli che sono i nostri impegni finanziari, la nostra capacità di reddito, tutti questi aspetti, tutte queste informazioni servono per definire la nostra profilatura e il nostro profilo di investitore. Ovviamente per una certa parte del nostro reddito e del nostro risparmio avremo un profilo non rischioso, assolutamente tranquillo, assolutamente conservativo. Invece per una minima parte, che potrebbe essere quella parte che noi vediamo tra i prossimi 20, 15, 20, 25 anni, 30 anni, in virtù del nostro obiettivo temporale di prepensionamento o di pensionamento, potremmo avere anche un profilo di rischio leggermente più rischioso in virtù di quelli che sono proprio il nostro obiettivo da raggiungere. Il risparmio è una parola che ci accompagna da quando siamo piccoli e quando diventiamo grandi, da quando ci regalano il primo salvadanaio a quando comunque iniziamo ad aprire il nostro primo conto corrente, piuttosto che a fare il nostro primo finanziamento per l'automobile. Quindi è una parola che ci accompagna proprio tutta la vita. Ed è fondamentale collocarlo in termini proprio educativi, perché il risparmio non è solo inteso come l'accantonamento di un reddito che noi percepiamo. Ma oggi, abbiamo imparato con la connotazione, ricollegandoci proprio con quello che ci diceva il dottor Pastore, sappiamo che il risparmio significa anche, in maniera più concreta nella nostra quotidianità, saper fare le scelte giuste nella nostra vita, quindi il risparmio energetico, quindi scegliere gli alimenti fatti in un certo modo, cioè fare anche delle scelte etiche che ci aiutano anche a essere efficienti nelle nostre scelte di tutti i giorni. Grazie Giusy per questo piccolo dobbiamo direzione offenziale. Dove ti troviamo? A Cremona abbiamo il nostro ufficio, Your Solution, sul sito www.your-solution.it oppure scrivendoci una mail info-your-solution.it Un numero di telefono? Un numero di telefono 0372 20405 Grazie Giusy, nell'angolo di educazione finanziaria si chiude questa sera, torni.